In questo caldo e pazzo giugno, mamma mia che caldo che è, ho deciso di mettermi a fare dei lavoretti al camper e di mettere un accessorio particolare. Di quale accessorio sto parlando? Mi sono accorto che le balestre posteriori, chiaramente le balestre sono solo il posteriore, si stanno un po' affaticando, quindi sono un pochino più stanche e mentre sulla guida normale rettilinea non ci sono grandi problemi, quando si prende indosso tendono ad abbassarsi molto, quindi a flettere molto e hanno perso un po' di quell'efficienza che dovrebbero avere. Fiat sul telaio light, più che altro anche magari le case costruttrici dei camper, tendono a spendere il meno possibile e montano una monolama in fibra composita, se non erro, non è in acciaio ma nella fibra particolare e questa monolama tende un pochettino a perdere le sue caratteristiche. Perché? Perché è fatta per non viaggiare a piano carico costante, invece noi col camper, ragazzi, siamo a piano carico costante. Siamo al sesto anno di vita del camper, devo dire che inizia a cedere ed avere i suoi problemi. Ho fatto un po' di indagini, ho indagato un pochino sui vari forum, mi sono consigliato con diversi installatori di questi prodotti, quindi diversi installatori di accessori per camper e mi hanno offerto diversi prodotti. Alla fine ho scelto quello che secondo me è il miglior compromesso. Al momento ve lo posso dire così sulla carta perché mi hanno detto diciamo delle caratteristiche particolari, però poi dopo tutto bisogna provarlo su strada. Intanto vi voglio far vedere cosa c'è nella confezione e nella confezione, che sono due belle scatolotte, abbiamo le tubazioni per portare l'aria dietro, di due colori per individuare sinistro e destro, quindi non aver problemi di sbagliarsi durante il passaggio e cavi, in quale cavo, a quale ammortizzatore collegato. Manolettino con le istruzioni, poi ci abbiamo, ci abbiamo, ci abbiamo il pannellino di controllo, ecco qua che lo stiamo aprendo insieme, con i due manometri per poter vedere la pressione di tutte e due sospensioni e tramite questo pulsantino pulsante, chiaramente far partire il compressore e gonfiare, gonfiare entrambe le sospensioni in uguale misura, quindi totta aria in una e totta nell'altra, poi se ne vogliamo sgonfiare una, possiamo tenere premuto uno solo e sgonfiarla. Qui non potremmo gonfiarne una direttamente, la sinistra la destra, la voglio gonfiare, ma dovremo prima gonfiarla entrambe e poi sgonfiare quella che c'è, diciamo, vogliamo tenere più bassa di pressione. Facette, bulloni nuovi perché vanno sostituiti e gli innesti da mettere sul petto che apro, so se almeno si vede meglio. Questo è l'innesto da mettere sull'ammortizzatore, sul soffietto posteriore per poterci poi mettere il cavo, il cavo, la tubazione, il cavo. E la la, il meglio pezzo, i soffietti. Bene, ho scelto questi soffietti perché, diciamo, sono fatti dalla Firestone questi e promettono una morbidezza maggiore rispetto agli altri, ovvero tengono il peso, però non sono molto rigidi e quindi mi lasciano la morbidezza sul posteriore. E' una cosa che io volevo, non volevo una sospensione troppo rigida e questa fatta così larga, ok, così bella larga, promette un comfort, uno smorzamento delle buche molto particolare. E quindi ho preferito mettere queste rispetto ad altri prodotti. Chiaramente ce ne sono due, una per un lato e una per l'altro lato che è ballo schiacciottilla. E poi chiaramente abbiamo la parte più pesa, che sono queste, che sono appena arrivato. Ci sono bulloncini, bulloni, tutte le staffe per poter da mettere sulle sospensioni da entrambe le parti, ok, e il kit è completo, non ne sto tirare fuori, tanto è inutile che vi faccio vedere tutti questi particolari, diciamo, il cavolo, perché sono tutti gli accessori che sarebbero per montarli, però non ha senso elencarveli tutti. Quello che ho voluto scegliere, che mi piaceva, è poter fare un gonfiaggio-sgonfiaggio senza dovere tutte le volte prendere un compressore, attaccarlo e brigare sulle cose. Non avevo voglia di questa cosa e sinceramente non costa tantissimo di più. Mi sono preso il compressorino Goldsmith e sul compressorino c'è il mini compressorino piccolissimo, ecco qua, sto pensando se montarlo sotto oppure montarlo nel battitacco, devo vedere se mi entra nel battitacco, comunque dopo vedrò. E qua ci sono tutti i vari supporti, c'è tutta la roba per poter fare una corretta installazione. Bolloncini, staffe, tutto quello che può servire per fare una corretta installazione. E ora devo un attimo capire come farla. Quindi ora si chiude tutto, questi non servono più, tanto lo devo montare. Mi metto qua, studio le istruzioni perché sinceramente non l'ho mai montate prima di ora, quindi devo studiare per bene le istruzioni, vedere tutto come si monta e poi montarlo. Le istruzioni ci sono, come vi ho detto prima, qua dentro, quindi si possono seguire queste istruzioni. Qui dentro c'è un manualino, come si può vedere l'affigurato c'è il Ducato 250, ma è esattamente identico al 2,90. Non c'è un granché di istruzioni, specialmente il problema magari secondo me principale è che sono state fatte in bianco e nero e quindi nella parte dove ci sono le foto abbiamo le foto in bianco e nero e una foto in bianco e nero non è mai esplicativa come una foto a colori. Comunque niente, ora inizio a vedere per montarle come si fa. Dovrò andare sotto, togliere i tamponi, montare questi regolarmente all'interno, al posto dei tamponi originali, quindi essendo montato al posto dei tamponi originali, togliendo quelli, quindi togliendo la sicurezza, non si possono portare completamente a zero, ma ci va lasciata una pressione minima per garantire sempre l'uso, tra virgolette, di un tampone. E niente, ora guardo come poterle assembrare, studio tutto e poi le montiamo.